Grazie a la vittoria in rimonta al MAPEI La dentra nell'Olimpo dei top club europei Si è scritta la storia, un'impresa da brivido Una squadra giovane che gioca in modo splendido Incebio sligua anche questa pazza Inter che Trema gol dei pari, siglato da Traoré La risolve il Ninja, poi anda e la traversa La salva nel finale, Empoli sorte avversa Il tutto rende inutile il successo rosso-nero Che si fa rimontare, il vantaggio per 2-0 Il terzo gol arriva su rigore di che sì Ma pure quest'anno sarà solo Europa League Feste e pianti a Roma, l'ultima di De Rossi Sia lui che i suoi compagni e tutti quanti commossi Ben 18 anni di sudore e di lotta Gli avrebbe continuato la cacciato via pallotta Fiorentina e Genoa, spettacolo indecente Nessuna che attacca, tutte e due con la mente Rivolta su Inter Empoli sperando nell'uno Lo 0-0 non fa retrocedere nessuno Il Toro invece è settimo ma a causa della Coppa Vinta dalla Lazio non vanno in Europa Allegri chiude il ciclo perdendo con la Samp Per la sua panchina ormai c'è pure Forrest Gump Definita inutile da qualche settimana Frosi non è Chievo, una noia disumana Per motivazioni il confronto era impari Udinese salva dopo aver battuto il Cagliari Ritorno del Bologna, cavalcata magnifica Tre reti contro il Napoli e decimo in classifica Con queste partite ora è tutto terminato Per tre mesi adesso niente fanta e campionato Doveva essere solo un episodio isolato È stata la serie di tutto il campionato Grazie del sostegno e della considerazione Riassunto Rep finisce alla prossima stagione